Controlli a tappeto nel weekend di Ferragosto in Casentino, i carabinieri di Bibiena hanno intensificato notevolmente l'attività di controllo che ha permesso di scongiurare reati predatori, furti in abitazione ed episodi legati all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Sono state controllate più di 700 persone e più di 500 veicoli. Un 37enne è stato arrestato perché trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, probabilmente acquistata nel capoluogo aretino e già pronta per essere ceduta. Tre giovani, uno originario del Casentino, due del Fiorentino, sono stati invece segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti in auto avevano 10 grammi di hashish. Un quarantenne bibionese è stato invece denunciato dai carabinieri perché alla guida della propria auto tra Castello Focognano e Talla stava per causare un incidente davvero pericoloso. Nel sangue aveva una considerevole quantità di alcol. Infine i carabinieri di Badia Prataglia hanno notificato il provvedimento di divieto di ritorno all'uomo marchigiano che a margine della competizione Trial Sacred Forest aveva aggredito i militari ed era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.